eccoci di nuovo col gioco funzionante abbiamo dieci giorni e 20 di legna credo la legna serve per avere dieci punti reputazione ne dobbiamo anche fare una casetta però a punto perché servono 15 di legna 290 300 a sto punto aspettiamo un attimo però aspetta un attimo se io questo perché così non è che mi piace tantissimo lo sposto qua e questo qui no non posso spostarlo orca 5 di legna proprio adesso sì ma è pieno guarda non c'è nessuno non c'è persone dove la portano questa roba ah questi c'hanno ah vedi la portano a casa loro bello anche il carbone perché per il freddo abbiamo una bella cittadina adesso oh subito bam l'abbiamo fatto allora prank non abbiamo gente ma scusa ma io non ho comprato qua devo farlo qua devo farlo qua questo allora passano di qui ed è abbastanza intelligente come cosa qui ce l'hanno la strada qui si può fare una strada qui qui perfetto e lei dove mi passa non dove c'è la strada bravissima cosa l'ho fatto fare la strada e no stai tranquillo che adesso costruiamo la casetta se non ho dieci giorni non sono dieci giorni ho un po' di dubbi ok non moriamo di fame però secondo me qua siamo arrivati un po' al limite non è per niente ma è perché io ti voglio questo qui adesso ok così possiamo spostarlo a forza lavoro 10 coul che sarebbe il carbone ce l'abbiamo adesso se lei viene qui a lavorare eccolo bravissimo e si siede ahahahah vabbè perché frate deve aspettare che che bruci ci stacca una cosa ok ho aperto anche l'altro così non so perché non me lo stanno costruendo ma non so perché stanno portando tutti le cosine vedi beh no eh lo so no non non dismissero forse ahah ecco perché vediamo un attimo qui bella la pesca raga così non rimaniamo senza cibo e poi bisognerà mettere qualcuno qua a pescare non credo di avere nessuno mi devi fare la casetta forse va a farla adesso sì ok non non sono ecco sì ecc è è ecc 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 è ecc Grazie. 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 Abbiamo aperto il nostro megalago, fighissimo raga. Ok. Allora, track food production structure. Presorge. Eh, ho capito, ma... Monk State sono case, credo. Pretende un po', eh, il gioco? Allora, io farei... Purtroppo devo tagliare un albero. Perfetto, così almeno il cittadino è tutta... Ok. C'era qualcosa che non aveva nessuno... Dov'è che c'è la barchetta? Dov'è che va la barchetta? Vediamo un po'. C'è questo qua? C'è questo qua. C'è questo qua? C'è questo qua? Ok. C'è questo qua? Allora, bisogna costruire sei case... Eh... Una... Poi... E' un bel costo, eh? Dov'è. Un bel costo, eh? Un bel costo. Questa non è che è proprio stata un tocco di ingegneria. ok 800 qualcosa, stiamo a stacarmi ok, facciamo un bel, che c'è qui l'acqua un bel quartier residenziale qua production structure però il mulino ho tirato giù mezza foresta secondo me dovrei fare anche un'altra struttura così davanti proprio l'unico albero che c'era, poverino ok, i visitatori stanno arrivando di casa non ne abbiamo tranquilli i visitatori è un gioco molto tranquillo amici quindi bisogna giocarlo tranquillamente ma dove è andata la barchetta? non si vede la barchetta pescale perché non c'è pesce? ok 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 la barchetta è tornata? non mi dava questo dai ah eccolo qua eccolo qua ok non c'era scusa quello qui grande bravo bravo resta attenti a costruire perché l'inn ce l'avevamo l'inn ce l'avevamo non c'è nessuna casa pronta non c'è casa pronta non c'è casa pronta famiglia non c'è tanto non c'èicy mi c'è non c'è Grazie a tutti. 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 Allora, al prossimo voglio comprare questo con 200 perché c'è questa cosa abbandonata. Che cosa sarà? Una cava? Un cimitero? Un cimitero, credo. Siamo a capitolo 3, abbiamo aperto... Un cimitero. 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 e non ce l'abbiamo ancora per poterlo fare non ce l'abbiamo ancora 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 non ce l'abbiamo ancora